Quindi secondo te mi ha trascurata perché mi sta preparando una sorpresa? Va bene, senti, in caso ci sentiamo dopo. Intanto provo a sentire. Un bacio con i ciao. 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 Praticamente l'ultima volta che ci siamo visti è stata l'altro ieri alla rampa. Boh, come è sparito. Quindi non hai visto la foto di ieri? Che foto? Che foto? Quella con Jennifer, nel parco dietro la rampa. Jennifer. Jennifer quella delle acrobazie? Sì. Quella che gli sta sempre intorno. Quella Jennifer. Sì. Sì ma non sarà stata di molto. Erano già le 7 e saranno tornati a casa subito. Tutto bene? Miki? Ci sei? Ci sei? Miki? Sì. 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 Sei che c'è? Per quanto mi riguarda la prossima volta ti ci puoi schiantare con quello skate Tu e quella Jennifer Proprio nel giorno del nostro mesiversario Almeno potevi avere le palle e dirmelo in faccia che non mi vuoi più tra i vieni Susan 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 Suzie Susan Niente mi ucciderà. Quella gente. Ho preso il nuovo spazio. Sì, l'ho notato.